Salve a tutti ragazzi, volevo dirvi che io ho le mestruazioni e quindi purtroppo per un po' non potevo scopare e di tutto ciò mi dispiace perché io amo tanto trombare, io amo tanto e prendere il cazzo e sentire proprio che fracchi dentro, comunque mi dispiace da morire, per quattro giorni non posso più scopare. Ora prenderò la buscofen, che tutte le donne sanno che sono medicinali per calmare il assoluto, appunto che avviene quando terminano i nostri occhi, prenderò la pastiglietta. Bene, questo era la cosa che mi volevo comunicare, saluto a tutti.